Non si tratta di una privatizzazione. Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, tenta di fare chiarezza dopo l'infocata situa di Consiglio Comunale durante la quale la Sise ha votato l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche dell'intervento di progettazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione. La proposta che l'Aggiunta ha approvato prevede l'ammordernamento degli oltre 3.000 impianti esistenti sul territorio comunale ormai obsoleti che continueranno ad essere di proprietà del Comune, spiega Ferraioli, con l'aggiunta di altri 91 punti di illuminazione. Credo che sia giusto fare chiarezza perché c'è una confusione assolutamente totale. Si parla di privatizzazione quando non si privatizza alcunché, voglio sottolineare questo aspetto perché privatizzare vuol dire trasferire la proprietà ai privati, il Comune non trasferisce alcunché. Anzi, siamo chiari una volta e per sempre, la finanza di progetto è uno strumento che consente ai privati di realizzare opere pubbliche che sono pubbliche di proprietà del Comune e restano di proprietà del Comune. Quindi il beneficio è sicuramente l'adeguamento di un impianto che di per sé è obsoleto nel complesso, in alcuni casi è pericoloso perché si sostituiranno 288 pali almeno e questo ha un costo. È un investimento di circa, se non ricordo male, adesso quasi 4 milioni di euro e anche questo è un aspetto da non sottovalutare perché se avessimo voluto farlo noi, 4 milioni non ce li abbiamo, nel senso che non possiamo neanche indebitarci. La differenza consiste semplicemente nel pagare il canone ad un soggetto il quale provvederà a pagare la fornitura di energia elettrica e le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Io credo che sia evidente il fatto che l'intera operazione comporterà un risparmio perché rispetto al costo attuale di fornitura di energia elettrica e manutenzione ordinaria e straordinaria noi avremo un canone che metteremo a gara oggetto di un ribasso con un punteggio molto elevato. Grazie. Grazie.